armiamo i motori giusto per fare un certo una accende le altre calibrazione fare nulla ok il raggio batterie il raggio eliche si riparte camera via dalle eliche stiamo facendo il cuore a me dio io me ne vado te lo porto a foggia giusto a piedi mi faccio un pellegrinaggio ciao 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 ciao